Allora, ciao a tutti. Appropito di questo momento di pausa per farvi vedere la strumentazione che utilizzerò al concerto delle stelle della Guardia di Finanza a Bergamo e sono adesso all'interno del teatro Kreberg di Bergamo. Allora, il camper che inauguro quest'anno con la mia nuova configurazione di suoni, effetti eccetera eccetera che esce direttamente dalle sue uscite left-right, poi ecco un po' di chitarre, la mia Tyler, una Strato, Telecaster, Gibson e un'acustica e poi venendo giù di qua Fishman per l'acustica e qui il remote collegato al mission Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca il mio pensiero Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro Perché la nostra vita in fondo è ancora solo solo per tempo Sono le loro parole, le nostre sono gli dapposti Le nostre sono le loro parole, sono gli dapposti Aspettare la fine del mondo è molto più facile Che spiegare la differenza fra New York e Los Angeles Minchia signor tenente, siamo qui con queste divise Che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono delise Da un umorismo di marzellette Siamo stanti di sopportare quel che succede in questo paese Dove ci dobbiamo farci ammazzare per poco più di un milione al mese E c'è una cosa qui per la tola, una che proprio non ci va giù E farla scendere una parola, se chi ci ammazza Prende di più di quel che prende la brava gente Minchia signor tenente, lo so che... Ma cosa fai? Non esiste niente E vado via per difendermi Ma comunque andrò, so che ti penserò Sperando che per te sia gentile Ma cosa fai? Non esiste niente Così da un giorno all'altro Dici tu e te Ritorno indietro e forse ritornerai da me Grazie a tutti Grazie a tutti